Buonasera, siamo qua con Vero Giorgia, come stai? Benissimo, grazie. Come ti senti stasera per vedere la tua storia vera sul palcoscenica? Sono molto contenta, sono felicissima di essere qua al Cinemario 8 di Milano e per vedere la mia storia a tante persone. Siamo contentissimi di averti e ci vediamo stasera e aspettiamo. Va bene, vi aspetto tutti quanti. Grazie. Grazie a voi.